salve a tutti ragazzi qui sal24r oggi siamo tornati con questo nuovo episodio di minecraft e oggi vi farò vedere insomma varie cose tra quei vari macchinari e via dicendo va intanto cominciamo subito visto che ho tre di legno eh tre di legno scusate tre tre pezzi di wool di lana insomma facciamo il letto perché visto che è tardi andiamo a dormire perché sennò dopo dobbiamo svegliare presto domani vabbè comunque non ho un falcetto ma scendiamo a prendere un po' di legno senza essere sgamati che sennò allora lì c'è il nostro bel portale che sta là ho piantato un albero ancora manco cresciuto benissimo me ne basta uno ok preso perfetto corriamo via perché qua è pericoloso e quindi vedo già un ragno che mi vuole mangiare no vabbè comunque mettiamo il cubetto di legno qui ok perfetto eh sì ok facciamo tre così e tre di sopra e facciamo un bel letto andiamo a dormire però lo mettiamo qua dai intanto non è un problema eccoci qua ragazzi ecco oggi avevo pensato di fare di fare diciamo una battery box dio lì c'è un enderman anzi due no quelli erano zombie vabbè comunque dicevo volevo fare una battery box beh bat box scusate che sarebbe questa qua faccio vedere subito bat questa qua ecco fatto selezionare questa qua che si fa così e ci serve il copper cable re batteri e legno vabbè copper cable si fa in questo modo qui con la rubber che ovviamente si fa con lo sticky con la resina insomma cotta che per fare la resina ci servono gli alberi di rubber e quindi poi vabbè ci serve la re battery che sarebbe questa qua sempre con copper cable quindi ci serve copper ingot però va bene anche questo qua insomma va bene vari tipi di copper vanno bene anche questo qua è più lo che si troppa spesso insomma vabbè comunque e di questa roba ne abbiamo ce l'ho qua copper ma nel tanto lo facciamo un po' di questo qua no ce ne vuole di più due ma dovrebbero bastare eeeh oh qua c'è 42 perfetto allora quindi andiamo alla ricerca di questo di questo coppia e di questo di questa resina l'albero e poi magari me lo porto ok eeeh è festa è festa qua andiamo alla ricerca metto il punto ce l'ho anzi vabbè tanto va bene mini era la scritta per per ritrovare la casa lì c'è un altro bel ragnetto che vuole essere ammazzato muori muori bravo 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 vedi seguono i miei consigli il ragno io gli dico di morire l'oro oddio che cazzo facciamo un salto da maratone ecco bella capretta vieni da paparino vieni vieni che ti mangio io ok eh questi alberi sono difficili da trovare diciamo si trovano nella foresta se non sbaglio non vorrei dire stronzate eh capra vabbè comunque non lasciamoci distrarre da questi piccoli inconvenienti e cerchiamo di puntare al nostro obiettivo gli alberi di resina dai speriamo che li trovo in fretta dai che non ci voglio rompermi il caso qui a cercare sti alberi ma qui che è qualcuno che pianta il grano che la popolazione di non li freghiamo al giugno 1 2 3 facciamo 4 panini vabbè spese l'oro ci facciamo i panini a spese e anche il ghiaccio si è congelato oh questo lì è proprio fatto la libreria al pozzo guardalo è proprio ingegnopolo questo oh cavolo cavolo ma ho finito di entro un po' di vento un po' di vento questa qui cotta è stupenda mi sta laggando e vabbè questa pietra la porto via a casa però vabbè si va bene metto un punto si mette con M no scherzavo si mette con C ehm vulcano ok vulcano vulcano e così almeno dopo ci ritorniamo ho quasi cominciato a intravedere mi sembra che quell'albero lì che sto puntando ora anche quelli siano di retina si si sono questi perché li notate perché a me non credo non vorrei dire non so questi c'hanno anche le banane le banane a pesina non so eccolo qua ci sono di retina io sono stupido perché non mi sono portato la geju per raccogliere il treat up insomma lo faccio qui in tre secondi se riesco piazzichiamo il nostro tavolo da lavoro ci mettiamo pa 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 no com'era oddio oddio ogni volta scriviamolo eccolo qua come si faceva come si faceva ah si faceva così stupido allora quindi questo qua tac tac ok treat up perfetto questo qua lo portiamo via ok ok raccogliamo la nostra resina ok mi ha dato anche l'obiettivo il trofeo insomma della resina e ci portiamo via anche l'alberello cioè nel senso cerco di portare via qualche arbusto così lo pianto vicino a casa mia non avrò problemi ma poi tanto comunque me la metto dentro la tavola quella lì per scambiare gli oggetti diciamo tra mutation table così almeno è importante ragazzi che lasciate due cubetti qua sopra per i due là uno e due i due te lasciare il resto delle foglie le potete anche levare tanto non è un problema però la mia l'alberello la mia l'alberello è importante dicevo che non li levate perché sennò se levate quelli dopo non cresce più l'albero muore praticamente le due foglie le dovete lasciare ok siamo 4 vabbè io mi do fuoco no scherza ehm andiamo a raccogliere nell'altro perché ho visto che c'è qualcosa che ecco ce ne sono altri due oh qui c'è del petrolio lo scringo petrolio 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 ok petrolio ehm andiamo a raccogliere altri altre resine che ci serviranno qui ce n'è un bel po' vabbè qui c'è il vis crystal quello lì bisogna starci attenti a quella specie di cosa perché fa uno strano rumore tipo quando non so se senti comunque ah comunque oh eccolo qua l'alberello e non me lo fa dare ooooh oh sto morendo che mangio ma questo fa un panino facciamoci un panino mangia 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 ecco a cosa serve rubare il grano ai vicini per farsi panino ovviamente vabbè comunque allora lasciando questi piccoli dettagli raccogliamo tutti ecco cosa lascio non so me ne frega niente l'alberello me la si uno ok ok ovviamente leviamo tutte le foglie magari ci da qualcosa ecco ecco un altro alberello qui è finito non c'è più nulla ok passiamo a quest'altro imboscamento di alberi no vabbè comunque a breve ragazzi appena mi arriverà all'ergato penso che già mi sarà arrivato quando pubblicherò questo video farò un commento di live su zombie quindi per chi vuole mi segua e quindi mi segua sul canale i video che caricheremo e sicuramente sarete soddisfatti magari farò anche come avevo promesso un ruolo su 50 su ascension magari il mio record per ora è 59 quindi ci sono arrivato anche tranquillamente quindi potrei arrivare anche molto più alto allora capite quindi ce n'è solo uno e qua c'è il panino a mano allora raccogliamo anche questo ok posto alberelli 4 bene 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 con la filosofa stone quotiamo gli alberi vabbè comunque oh lì c'è un alberello vieni bravo allora qui resina vabbè neanche neanche lontanamento vabbè dai ragazzi io penso che così va bene tanto ne abbiamo di resina ne abbiamo 10 e comunque abbiamo quattro alberelli che possiamo piantare vicino a casa nostra quindi non abbiamo problemi oh oh ecco qua il vicino ha ripiantato tutto e noi glielo prendiamo ne montiamo a spese del vicino cosa non ci dice niente bene perché non rompe rifreghiamo il grano a posto magari saltiamo anche di sopra tanto lavora lui vabbè comunque io lo so sto facendo un po' il cattivo però ci posso fare tanto l'importante è sopravvivere c'è il tramonto tutto rosso il cielo e lì c'è un zombico e lo andiamo a ammazzare dai perché sennò che minecraft è senza ammazzare i zombi vieni vieni e l'altro c'è la spada di oro di oro scusate di rubino per quello lasciamo perdere che sta andando via va bene allora eccoci qua siamo arrivati mettiamo tutto dentro questo 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 mi interessa questa roba questo mi interessa questo mi interessa mettiamo sopra un po' crano facciamo panini a volontà questo va bene allora facciamo un po' di panini un po' di panini ok 15 panini che ci serviranno un po' c'ho qua due mettiamo a cuocere queste qua ok perfetto così possiamo craftare un filo di questo qui e poi mettiamo questo accanto a questo e facciamo o per cable ne facciamo due per ora perché più di due non ne possiamo fare facciamo anche un altro ok e ora facciamo la quindi re battery tin ci abbiamo il tin mi sembra di no no invece si quindi mettiamo anche il tin qua lo mettiamo di sotto tanto tin no se faccio ci metto la pop e ancora tin ok mettiamoci un po' di legno ok andiamo a dormire che è tardi eccoci qua ragazzi siamo belli svegli pronti forti come dei leoni al mattino e lì c'è uno zombie come vicino a un altro no quello oh c'è un bel pripe vieni 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 bello bello vado dalla gun power e anche te vieni eh piglia fuoco che fai quest'albero flutua nell'aria tranquillamente se nulla fosse qui ha nevicato qua no vabbè comunque piccoli dettagli no ma mi sa che c'era già da prima vabbè comunque allora qua fuotato tre copper facciamo ok tatà redstone al centro copper cable sopra tre battery ole ne facciamo altre due non mi bastano non mi bastano ci vuole il tin allora tin tin ora ancora perfetto e c'è serve un altro eh sì bisogna andare in minare ragazzi poi c'è quest'altro qua dopo vado in minare poi volevo fare anche maceratore eccolo qua maceratore questo qua maceratore si fa electronic circuit che si fa redstone acciaio e acciaio per esempio sarebbe ferro rifinito che sarebbe l'acciaio cioè cuocere ancora l'iron ingot poi ce l'ho ancora un'altra volta redstone copper cable parecchi 6 copper cable eh sì copper cable serviranno tanto ragazzi eh questa è l'unica pecca ovviamente perché cavi di rame per i macchinari vanno solo a quello che c'è che c'è che c'è che c'è che c'è manca un'altra le steen allora io faccio così ci metto ah la steen gliela faccio imparare che ci metto questi qua no ci metto ci metto che ci metto boh che ci metterò mettiamo un altro stack niente eh che ci metto vediamo qua c'è della roba ho capito ci metto questo facciamo prima ok non ci è stato bisogno andare in minera allora però volendo no ho sbagliato effetti il rubber lo imparano no lo impara accidenti a lui vabbè facciamo così piantiamo un albero qua e va affanculo allora piantiamo questo qua e io ho anche del che c'ho 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 la cosa quello per fare crescere più veloce ok non ce l'ho qua no chiamolo qua ok vado a prendere le ossa macerate lì c'è un pollico no pensavo che era un creeper ma quanti pollici ci sono si moltiplicano qui c'è una bella spera prendiamoci ok vado a prendere il ball meal oh è qua ball meal ne abbiamo tre devo fare la presupple ora poi oh questo lì è già cresciuto porca miseria più veloce che di me adesso quello facciamo crescere anche anche ok bravo vedi che hanno subito capito non ho capito subito ma qui c'è un cazzo ancora l'eftech vabbè tanto va bene così ora gli faccio imparare questa qua eh ho capito subito e me ne prendo serie metto ecco qua è un bel po' il legno glielo ho fatto imparare non mi ricordo sì l'ho fatto imparare ok andiamo qua un po' di legno così un po' di legno dai e facciamo qua facciamo tutta sta roba facciamo uno stack ok ecco la stiamo facendo copper ah poi ovviamente ci sarebbe il copper eh copper lo dobbiamo imparare copper e copper e copper ce lo prendiamo così ok ne abbiamo 30 un po' di roba qui ancora io direi che vanno bene da 13 vanno benissimo quindi elettroni circuito ci serve il ferro che no naturalmente non abbiamo io me lo prendo il ferro problema sempre se glielo ho fatto imparare no no non l'ha imparato vale 2,56 va bene andiamo a minera dai ragazzi tanto che costa abbiamo abbiamo andiamo a minera a cercare il ferro allora qua 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 c'è del copper e vedo quanto copper invece del tin devo fare la pala io eccolo qua ho trovato il ferro ok perfetto torniamo su eccoci qua ora gli faccio cucino un cubetto di ferro ok li cucino tutti ovviamente appena me ne ha colto uno lo faccio imparare la trap mutation table e così facciamo subito il qua c'è anche il tin oro vabbè vabbè comunque ragazzi io direi che per questo episodio è tutto e quindi ci vediamo al prossimo episodio che sarà il dodicesimo comunque questo video è durato abbastanza penso sopra la ventina di minuti credo vabbè comunque ci vediamo al prossimo video bella ragazzi